Un saluto a tutti. Il Papa commentando la visita di Maria Elisabetta dice il mistero dell'incontro dell'uomo con Dio, non un incontro all'insegna di prodigi strabilianti, ma piuttosto all'insegna della fede e della carità. Maria infatti è beata perché ha creduto. L'incontro con Dio è frutto della fede. Non siamo chiamati a grandi prodigi, non siamo chiamati a vivere chissà quale speranza di una vita prodigiosa o miracolosa, no, dice il Signore. Siamo chiamati a ripartire dalle cose più semplici, dall'incontro che Maria fa con Elisabetta, un incontro semplice che ha al centro la cura l'uno dell'altra persona e la fede. La cura che Maria vuole avere verso Elisabetta in un momento decisivo della sua vita. La cura che diventa benedizione restituita da Elisabetta, ma nello stesso tempo riconoscere che Maria è beata perché crede, perché ha fede. La cura e la fede. Mettiamo al centro del nostro cammino verso il Natale, ormai prossimo, queste due parole e chiediamoci quanto siamo capaci ogni giorno di cura e quanto siamo chiamati a rinnovare la nostra fede. Arrivederci a domani.